I clubber e la scena napoletana, il nostro Pierre della Notte torna a raccontarci le serate dei Gen Z con il DJ e produttore Mario Bianco. Sicuramente come ben sai Napoli è una città che si nutre di fermento, ci muoviamo e siamo completamente immersi nel mutamento, nel cambiamento e adesso diciamo che c'è sempre più attenzione a quelle che sono le dinamiche anche che influenzano la città. Quanti club ci sono di tecno, house, elettronica in generale? Come ben sai in tutti i centri storici delle città ormai è sempre molto più raro trovare posti chiusi dove magari storicamente si è fatta la storia del clubbing, quindi anche a Napoli c'è una problematica importante è quella delle location dove appunto sviluppare la club culture che è un po' il fulcro di tutta la vita notturna. Sul mare noi facciamo tantissime cose poiché il meteo è sempre dalla nostra parte, diciamo abbiamo un clima abbastanza favorevole per poter gioire in spiaggia con la musica, viviamo e ci nutriamo di sole. La scena elettronica come vivaio piuttosto che come ricezione straniera? Beh diciamo che siamo sempre molto attenti a tutto quello che viene proposto dall'estero, lo assorbiamo un po' come spugna, però siamo molto 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 selettivi su quello che ci va di, almeno da dj ti parlo, di proporre alle nuove generazioni, a chi magari già è un po' più esperto e sa esattamente dove muoversi per andare ad ascoltare la sua musica giusta, quindi abbracciamo un pochino tutte quelle che sono le culture musicali che ci vengono proposte anche dall'estero.